limitata, quindi attenzione nel nero invece la misura 40, beh i colori sono tantissimi e sono tre quindi potete proprio fare, magari vi verrebbe il piedone troppo lungo, troppo importante mi alzo per farvi vedere proprio, no, su di me questo tipo di tronchetto cioè guardatelo sempre con un look un pochettino più strong, quindi con una gomma Ben ritrovato amiche in diretta su QVS Italia, Martina Pascutti insieme in quest'ora delle 18 allora vi faccio un po' limitata, quindi attenzione nel nero invece la misura 40, beh i colori sono tantissimi e sono tre quindi potete proprio fare la